Salve gente, allora oggi andiamo a chiudere un pochino il gruppo delle Charlie, delle fragranze di cibo della Fralab con l'ultima, la cioccolato, questa è la candela e questa è la scatola. Cioccolato di nome e di fatto, le note di testa sono fiore di cacao, note di cuore, accordo di cioccolato cremoso, fiore di guava, note di fondo, vaniglia, crema di latte, scaglie di cioccolato. Di nome e di fatto proprio. Per quel che riguarda ciò che ho sentito io, accesa anche questa in lampada, ma direi che occhio e croce, sia accesa in lampada che è accesa allo stoppino, è facile che l'intensità, se non è quella quasi, perché l'ho trovata, e mi ero segnata le paroline, reale, corposa, quindi bella cicciottona, piena, quindi nel senso il cioccolato come va fatto, insomma, pesante, perché comunque il cioccolato leggero, che cioccolato è, ed intensa, quindi si sente molto bene. Quindi tutti aggettivi comunque abbondanti per questa fragranza. E niente, sa di cioccolato, quindi come succede per altre fragranze che sanno di cibo, per chi ama il cioccolato questa è decisamente un'arma a doppio taglio, perché o ti placca la voglia di dolce, oppure te la decuplica. E mi sembra abbastanza inutile dire che fa parte delle diabetiche. Guarda un po'.